Episodio 19 di Excel, oggi vediamo come editare i contenuti delle celle, qualcuno potrebbe storcere il naso, è abbastanza facile, vi farò vedere le cose facili ma anche qualcosa che magari non sapevate. Dunque partiamo dal presupposto che noi abbiamo qua la nostra cella e per modificarla possiamo cliccare qua e modificarla qui chiaramente, possiamo fare così, oppure ci mettiamo qua col cursore, selezioniamo dove vogliamo andare, se abbiamo più parole possiamo premere qua due volte, possiamo farlo qua, ok, quindi modifichiamo. Mettiamo il nostro numero, facciamo invio, se invece mi metto qua e faccio esc esattamente come scrivere, e faccio esc chiaramente non ci prende la modifica, stesso discorso possiamo farlo qui e vale anche per la barra, posso fare ok, vedete posso farlo anche da qua, elimino tutto, faccio ok oppure vado qua e annullo quello che sto facendo. Quindi questa è la modifica basica per le celle e fin qua direi che ci siamo tutti. Un'altra cosa che potreste fare, scrivo una cosa tipo bella giornata di sole, per la modifica di questa cella qua, io vado a mettere dei valori qua sopra, quindi voi non vedete bene perché magari è nascosta, non avete ancora cambiato la dimensione della colonna, motivo per cui ce l'avete qui nascosta, ma in realtà bella giornata, c'è scritto proprio bella giornata di sola, ah di sole, perfetto, ne facciamo ok, l'ho appena modificata. Che cosa succede? Vedete che vi apre tutto, non è che solo perché è nascosta non c'è scritto, perciò voi potete anche ovviamente cambiare quello che è da sole a sola per davvero, e se apriamo tutto vedete che ci dà di sola, quindi magari qualcuno potrebbe pensare che solo perché non si vede potrebbe essere tagliato il valore, invece è proprio qua, esistente. Boh, direi che possiamo togliere questo, un'altra cosa che possiamo fare, scriviamo degli altri dati, così tanto per, cosa potremmo fare? Potremmo avere delle celle formattate e potremmo utilizzare, vedete qua cancella, c'è una modifica che possiamo fare, cancella, possiamo editare la nostra cella così possiamo cancellare tutto, Torniamo indietro, possiamo cancellare il formato, perfetto, possiamo cancellarne eventualmente solo il contenuto, vedete che rimane il formato, oppure più avanti potremmo avere collegamenti ipertestuali che non abbiamo visto che sono i link, banalmente, si chiamano collegamenti ipertestuali ma la gente li conosce come link, non so perché si ostinino con sti ipertestuali, e poi commenti e note ma non l'abbiamo ancora visto né commenti né note, quindi in questo caso cancelliamo tutto. Se volessimo fare una cosa del genere, stesso discorso, poniamo il caso che abbiamo tante cose, ok, sto scrivendo letteralmente a caso, al di là di prendere tutto e fare cancella tutto qua, cosa potreste voler andare a premere? Semplicemente cance. Mi raccomando che se avete qua il vostro range e premete backspace, facciamo da qua, se premete backspace vi va a cancellare solo il contenuto della cella su cui avete cominciato a trascinare, quindi da qui se io trascino mi va a cancellare questo 435 qua, invece per cancellare tutto, a prescindere, cance. Perfetto. E fin qua abbiamo visto i vari tipi di editing dentro la cella, abbiamo visto la formula, la barra delle formule, la possibilità di cancellare qua con la gomma diverse cose, al di là del contenuto vero e proprio. Adesso andiamo a vedere come andare a modificare più range insieme, quindi noi ci mettiamo qua e vado a mettere dei numeri, 12, 23, 45, anzi, visto che siamo qua approfittiamone, abbiamo fatto l'autofill, vabbè, facciamo una cosa del genere, nessun problema, e poi dall'altra parte mettiamo solo dei numeri dispari, facciamo di qua 1, 2 e di qua 3 e 5, quindi se io vado qua a trascinare, se io trascino qua siamo a posto, se io magari trascino qui, ok, quindi abbiamo due serie ben distinte di dati, che vorrei andare a separare semplicemente dal colore, ora poniamo il caso che avete appunto una serie di dati e state controllando quello che è il valore su un foglio, magari su un foglio, su un'altra schermata, o qualcuno ve lo sta dettando, quindi anziché fare così, ok, e modificarlo, io potrei veramente far così, però quello che rischio di fare, vedete, nel momento in cui non ho il range selezionato, posso tranquillamente muovermi fuori, se per caso sbaglio a cliccare, da 43 io magari sbaglio a cliccare e vado qua, vedete, ho fatto un errore e magari sono andato qui a modificarlo, quindi una cosa che possiamo fare in questo caso è selezionare tutto il range e vi faccio vedere come noi possiamo restare esclusivamente nel range, e lo vado a fare mettendo degli 1 in giro, anzi di numeri tipo 1, 2, 3, 4, 5, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, torno indietro, vedete, con enter sto letteralmente andando avanti solo nella colonna, nel momento in cui ho finito io non posso sbagliare, continuo a fare invio e mi muovo esclusivamente nella colonna, quindi sapete che se qualcuno vi detta, anche se non guardate la cella, ma sapete che, ok, prima cella, cosa ci dice? 12, ok, 34, ok, 56, salta, 1, 2, 78, ok, salta, salta, e qua ho finito il range, va bene? Quindi in quel caso dati lock, ho finito, ok, quindi range, finito. Per tornare indietro chiaramente non dovete fare tutta la colonna, perché se avete 100 rig è un problema, potete fare tranquillamente maiusc oppure shift, o maiusc o shift, dipende come lo volete chiamare, è enter, quindi maiusc invio o shift enter, dipende se avete la tastiera italiana e inglese, quindi invio, scendo, fino a tornare chiaramente sopra, con maiusc invio, torno indietro, esattamente come la stessa cosa che abbiamo fatto prima con maiusc tab, ecco, possiamo fare anche tab se volete, al di là solo di invio, quindi tab e maiusc tab, oppure invio e maiusc, quindi dipende come siete comodi, in realtà se state usando la mano destra per il tastierino numerico potete andare avanti con tab, quindi la persona che vi detta, scrivimi 1, ok, salta, salta, ok, e la quarta metti 5, salta, salta, 5, così, oppure torna indietro di 2, 1, 2, metti 0, perfetto, abbastanza veloce, come spostarsi su un range con più colonne e più righe, molto semplice, ci mettiamo qua, vi faccio vedere, selezioniamo tutto e con tab ci spostiamo di riga, di colonna in colonna fino a scendere di righe, vedete, quindi questo è maiusc tab per tornare indietro, mentre qua è tutto uguale, tab e invio, vedete, sto facendo tab invio, tab invio, tab invio, non fa differenza, qui invece in questo range abbiamo che tab ci sposta in orizzontale, chiaramente se non c'è più niente va a capo, mentre invece invio ci sposta in verticale, nel momento in cui non ha più niente va sull'altra colonna, ok, quindi questo è invio, vedete che passa da riga a riga con invio, mentre invece con tab passa da colonna a colonna fino a cambiare riga, stesso discorso, maiusc tab andiamo indietro, tab, maiusc tab, con invio e maiusc invio, vedete qua, avevo scherzato tab per sbaglio, maiusc invio e invio, tab, maiusc tab, perfetto, quindi così diventa molto più facile andare a modificare il range, una cosa però non usate le freccette perché se io sono qua e voglio andare sotto e uso le freccette va tutto in malora e quindi salta questa bellissima cosa della modifica del range, questo è quanto, questa era la vera chicca della lezione ma per spiegare quello vi voglio spiegare anche la gomma che almeno abbiamo visto, adesso sapete cos'è e chiaramente dobbiamo spiegare anche come modificare a livello basico, dire che per oggi è veramente tutto, noi ci vediamo nel prossimo video dove parleremo di come aggiungere e rimuovere celle, colonne e righe, sotto in descrizione trovate tutto ciò che serve per supportare il canale se ci tenete particolarmente, unirvi alla community, guardate il mio sito dove potrete trovare documentazione, corsi gratuiti e quant'altro e nada, io vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima, ciao ciao!